ho versato 20 euro la notifica istantanea è proprio buono questo caffè buona ma alla fine hai pagato tu? si, quanto mi dice il pay? vabbè dai dai ok prendo da mangiare oggi dieta se no non vinciamo la sfida della settimana ah io ho fame ho fame mi dispiace forza troppo le merendine si però no, zero come sta andando questa prima settimana Marti? ehhh così così diciamo che mi è venuta pure una febbre sul labbro per lo stress di non usare più i contanti e dover usare la carta e forzare questi commercianti easy difficile beh però insomma si vince facile è una tattica ma diciamo siamo sono tutti pro al levare togliere diciamo i contanti ecco perfetto sai che sei il numero uno in classifica a direttora wow si stai vincendo alla grande come sta andando la sfida della settimana? eh settimana particolare nel senso che proprio all'inizio del mese cashless che cosa combino? io per lo portafogli ciao 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 ciao